Buongiorno a tutti, oggi sabato 13 gennaio. Ascoltiamo il Vangelo II Marco, capitolo 2, versetti dal 13 al 17. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva da lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scrivi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori pubblicani, dicevano ai suoi discepoli. Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e peccatori? Udito questo Gesù, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il personaggio che oggi ci presenta il Vangelo è Levi, il figlio di Alfeo, discepolo di Gesù. Ecco, nel testo è scritto che prima di incontrare Gesù Levi stava svolgendo il lavoro di pubblicano. Sappiamo che questo lavoro non era stimato assolutamente dagli ebrei, dai suoi compaesani. Un pubblicano era un truffatore, un ladro, almeno così era considerato, che lavorava per riscuotere le tasse, quindi per prendere le tasse degli ebrei e poterne quindi usufruire un po' pattuendo tra romani e il resto anche un po' per sé. Ecco, quindi non aveva una buona reputazione questo Levi. Eppure Gesù passa, lo vede, è scritto così, e gli dice segui me. E a questa unica parola rispondono due gesti di Levi, due gesti silenziosi. Non parla, ma agisce Levi. Si alzò e lo seguì. Tutto sembra immediato. Questo testo è molto sintetico, è una specie di colpo di fulmine, forte, intenso, così com'è intenso l'amore di Dio per ogni essere umano. E probabilmente il Vangelo ce lo vuole trasmettere così, con questa sinteticità, proprio per farci capire l'amore di Dio quanto è forte. È forte al punto tale da farci muovere, da farci alzare e seguire Gesù. E con questo stesso ritmo sostenuto la scena del testo cambia, cambia immediatamente. Ci troviamo a casa di Levi, Gesù seduto a tavola con i pubblicani. Un banchetto con Levi. Ed ecco che emerge la perplessità degli scrivi farisei che pongono una domanda ai discepoli di Gesù. Probabilmente non hanno proprio il coraggio di farla direttamente a Gesù. E allora passano attraverso i discepoli. La domanda è questa, perché il vostro maestro mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? E pongono i discepoli in una situazione di grande difficoltà. E Gesù è lui che prende la parola, vista un po' la situazione ambigua. Effettivamente la domanda dei farisei e degli scrivi non è poi così fuori luogo. Perché nelle culture medio orientali mangiare e bere insieme a qualcuno è proprio segno di comunione. Cioè non è che significa soltanto andare a mangiare da qualcuno, ma significa proprio entrare nel cuore di qualcuno, entrare nella vita di qualcuno, fare comunione con lui. E questo significa. Quindi questa domanda era più che lecita, ma è Gesù che è interessato a questa domanda. Perché? Perché la domanda era diretta a lui di fatto. E allora prende la parola. Non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. Io sono venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. E Gesù dice di essere lui il medico di cui tutti hanno bisogno, perché tutti siamo peccatori. che cosa significa questo? Significa che l'amore di Dio non si può capire, si può solo accogliere, proprio come ha fatto Levi. Oggi allora chiediamo la grazia al Signore di poter accogliere tutta la potenza del suo amore, di questo colpo di fulmine che ci cambi la vita. Buona giornata.